buongiorno giuseppe e tutti gli amici della puglia e allora facciamo questo breve video per mostrare i nostri quattro canarini cioè le due coppiette con cui ci stiamo un po facendo le ossa ora stanno tutti insieme in questa gabbia da 120 sono quattro sono in muta quindi sono un po bruttini diciamo così e niente nella gabbia loro hanno due posatoi alle estremità più o meno si possono fare dei voli abbastanza importanti poi hanno dei posatori più corti intermedi e dei posatoi piccoli sopra dove si mettono spesso anche la notte oppure ecco e hanno uso dei bicchierini ai quattro cantoni perché ce n'è uno un po una un po di tigiosetta quindi è meglio tenerli ognuno per quando mangiano e uso i bicchierini usa e getta perché sono molto pratici sia per il passoncino questo abbiamo rubato dai tuoi dai tuoi video sia per il passoncino che per quanto riguarda i vari preparati che gli possiamo dare quindi con l'uovo oppure a volte un po di verdura tipo che mettiamo talvolta un po di frutta sono molto pratici perché tengono tutto pulito loro si posano sul bordo e possiamo regolare anche le quantità eccetera hanno due ossi di seppia che usano non mancano e due beverini e cambiamo l'acqua tutti i giorni e niente abbiamo trovato molto equilibrio ecco le mangiatovi per i semi teniamo tutti insieme perché la gabbia questa grande metterei anche solo scagliola e il mix separato però è un po pratico così per ora quindi facciamo così tra l'altro loro neanche li spregano perché li mangiano bene si vede dal residuo sono tutti spogli quindi facciamo così e niente ai canarini loro sono dunque c'è un'isabella si chiama isabella un'isabella topazio recessivo è in muta lui è una casa si chiama catino e portatore di isabella dei gialli e già lì che questa qui la brinata e quello lì in alto e pico su un intenso e niente ci facciamo le ossa con questi quattro e così niente mettiamo il front line ogni due tre mesi usiamo sia sulla gabbia che una cucina dietro la misa e qui abbiamo un po di cose tutte ordinate che ci servono per loro e niente da sola per ora è tutto